Primo tappone, dono mitico, giornata sicuramente dal punto di vista altimetrico, molto molto importante, fatica eh? Sì, oggi sarà faticato, abbiamo cercato di gestirsi perché la calcola la settimana è qui di giro, quindi l'importante dobbiettivo per arrivare nel tempo massimo ci siamo riusciti. Sì, domani come sarà? Perché domani c'è una lotta contro l'orologio se non sbaglio. Sì, domani è ancora una scalata, essendo ne ho proprio, non ne ho mai fatta una, quindi non saprò, io andrò... Ah, cominci con una semplice proprio. Esatto, esatto. Vabbè, però ti vedo con il sorriso dopo tante ore di bici. Sì, quando raggiungo l'obiettivo sono sempre con me. Si parlava oggi sulla Gazzetta dello Sport di un dispendio energetico pari a 6.000 calorie. Cosa avete mangiato in polsa? Sì, panini, già abbiamo tartine con il riso, parrette, la pro-action, il nostro sponsor, gel, insomma, tutte cose che ci danno energia in poco tempo. I tuoi compagni come stanno? Una caduta oggi abbiamo visto? Beh, un giorno è caduta, non ne so più, quindi spero non si sia fatto niente. Adesso l'ho proprio, però niente, l'abbiamo dato per aiutare Pirazzi, finché ci siamo riusciti a star con lui, quindi a tutta. Grazie, a volte a tutta, ciao! Ciao!